e vai andre silva come diceva pelle gatti contro quando abbiamo vinto contro il cagliari anni fa perché è più bello vincere perché è più bello vincere all'ultimo secondo all'ultimo secondo sì perché all'andata contro il genoa meritavamo di più meritavamo di più meritavamo di più poi veniamo adesso voglio parlare un po del domago 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 foggiano domago che parli di me vuol dire già qualcosa un canale che ha che ha poche visualizzazioni il tuo il grande lì sai che ancora sarai smerdato per questo ci ti hai paura allora tu prevedi allora a parte che oggi prima di tutto gioiamo per la vittoria del nostro grande milan niente poi c'è stata la partita ci sono state le partite giuventus udinese 2 a 0 doppietta di di bala a conferma di quello che dico sempre io che tanti criticano di bala quindi maestrino non sei l'unico io ho sempre detto pure per me di bala è un top lea perché so che ci stanno in giro tanti che criticano o che reputino o ma come si ferma qua o che reputino di bala non un top lea per me di bala è un top lea oggi la juve ha vinto tranquillamente con l'udinese 2 a 0 poi c'è stata l'altra partita inter napoli si è stato bravo a zeccarla ma non tanto perché ti ricordi quel video non voglio mettere nemmeno l'audio tu dicevi di taccarate piatinate da carate comunque ti è andata bene pareggio si poteva aspettare di una partita del genere quindi ora che tu alludi a me e fai capire che nemmeno io avevo previsto una cosa del genere del milan ti voglio far ascoltare quello che io dissi il 23 di gennaio 2018 ok il 23 di gennaio 2018 cosa dissi io sul milan e tanti che mi prendevano per matto però io sto ancora beh ben piantato a terra perché ancora non è nemmeno sicuro è ancora da milanista dico ancora non è sicura però guarda che avevo detto io che tu prevedi tutto è sempre elevato sono 12 punti se non erro il distacco dalla quarta però è fattibile perché prossimamente avremo avversari che sono che fanno parte del come si dice adesso insomma che sono le inventano che sono tra le prime all'andata ricordate che abbiamo perso tutte queste partite ora la squadra è ovvio è per la prima volta in tutta la stagione che sta avendo mai di partite di fila vittoriose se continuiamo su questa scia perché può essere importante la vittoria a Cagliari psicologicamente può essere importante la vittoria a Cagliari psicologicamente l'avevo previsto il competente il competente non succede come dicono a Roma non succede ma se succede se noi continuiamo su questa strada e riusciremo cosa che sarà difficilissima ma se riusciamo se riusciamo a vincere contro queste big possiamo possiamo ritornare a perché in effetti è così ancora abbiamo accorciato ma ancora non siamo in Champions ma possiamo a sperare per il quarto posto ragazzi quindi è tutto tra virgolette nelle nostre mani se saremmo capaci a vincere queste sfide dirette possiamo ritornare in Champions che sarebbe una cosa straordinaria questo per quanto riguarda il Milan per quanto riguarda la tua Inter che io non credo che tu la ami perché sei sempre seppure contento del gol di Immobile che ti ha tolto a te i punti diciamo perché è una concorrente tra l'altro io ho detto che andrà in Champions da inizio stagione però ascoltiamo qua parlo dell'Inter il 14 dicembre 2017 voi eravate primi in classifica e ancora dovevate giocare con noi in Coppa Italia ascolta cosa dico io della tua ben amata Inter 14 dicembre 2017 come godo 3 a 0 incontreremo il 27 di dicembre i nostri cugini perché voi ma voi siete forti voi siete forti voi siete i primi in campionato ma ora in Coppa Italia vi buttiamo fuori è già un trofeo in meno che non potete vincere e in campionato parola di Leo finirete terzi quarti o quindi forza Milan seconda vittoria di fila e io godo poi oggi vogliamo vedere che partita ha fatto Eder e da minchia e da minchia cosa ha fatto e da minchia che attaccante è che attaccante Eder Eder tu lo reputi un grande per me non è un grande Perisic ti avevo detto che non è toplea sta dimostrando che non è toplea inutile che racconti la favola che non gioca per i cardi non è toplea Di Bala quindi non sei solo tu l'ho detto pure io sempre un toplea Andre Silva l'ho detto pure sempre io attenzione ad Andre Silva perché Andre Silva ha bisogno tempo di adattarsi è partito anche un po' forse con la testa troppo montata si deve concentrare più sul campo a lavorare la qualità ce l'ha Cutrone molto prima di te dopo già l'amichevole col Bayern Monaco sempre a ripetere a dire là che è il talento di casa ma allo stesso tempo mai criticato Kalinic allo stesso tempo ho detto piano andiamoci piano con Cutrone non è ancora pronto per giocare da unica punta tu queste cose le sai non le sai poi vedi tu fai sempre il tuo video te l'ho detto sfidiamoci le nostre competenze ma ti fai sotto perché sai e parli nei tuoi video di me diciamo alludi a me perché sai che io sono competente e questo a te ti brucia perché sai che ne so di più di te quindi immobile questo gol come dici tu schiaffati il lento culo perché i titoli con immobile non si vincono mai con immobile non si vince immobile è un buon attaccante basta non è superiore ai cardi non è un top attaccante te lo dico qua immobile non è quel giocatore che tu credi lo voglio vedere nelle partite decisive come dici tu con le grandi squadre lo voglio proprio vedere per me immobile un giocatore un attaccante buono nulla di più nulla di quello che tu fai capire quindi poi un'altra cosa ora per quanto riguarda il milan sta stiamo godendo ci stiamo avvicinando ancora io però sono lì a dire calma contentissimo ma calma per quanto riguarda il napoli che vuoi sentire volete sentire tutti quanti questo per quanto riguarda il napoli ora sta per quanto sta a meno uno dalla juve con una partita in più tutti quanti ora pensate che già il napoli ha perso lo scudetto io ancora vi dico io ancora vi dico che il napoli sarà campione d'italia e se così sarà domago della mia capocchia ti ficchi la testa nel cesso te la ficchi nel cesso perché tu sei lì a dire che non lo non ce la farà io sto dando un pronostico difficile io dico ancora tutti quelli che ridete adesso e gioite calma che il napoli vincerà lo scudetto parola di leo va bene ragazzi che dire andre silva al 94esimo strameritato perché all'andata noi meritavamo di più forza milan sempre e domago tu per me hai sempre torto tu per me hai sempre torto